ciao ragazze in questo video voglio mostrarvi tutti i prodotti bio che sto utilizzando nell'ultimo periodo per la skin care sono cinque prodotti bio quattro dei quali trovate al supermercato e quindi hanno anche un prezzo abbastanza basso uno forse venivo già parlato perché comunque l'avo già utilizzato altre volte mentre gli altri sono delle novità praticamente trovate come sempre leggo dei prodotti con le prese giù nell'info box e vi pescherò random questi cinque prodotti e ne parliamo insieme e niente iniziamo il primo prodotto di cui voglio parlare è questo qui questo in realtà è una new entry sapete che vi ho già parlato un sacco di volte che questa marca che trovate al conad e della natural line natural cosmetics è una marca bio che trovate comunque al conad e quindi di tanto in tanto il conad fa il 20 il 30 per cento di sconto e quando succede ne acquisto sempre soprattutto acquisto il lo struccante occhi che è il mio struccante preferito in assoluto e niente ho voluto provare questo perché sapete che io come gel detergente di solito utilizzo quasi sempre quello del libro sce mi trovo benissimo però volevo provare questo perché ho provato tantissimi prodotti di questa marca avevo già recensito alcuni di questi tantissimo tempo fa poi continuato ad acquistarne altri di questa marca e questo era uno dei pochi che non avevo provato questo comunque gel detergente viso cetriolo guava naturalmente delicato all'interno ci sono 150 mila di prodotto e a sei mesi di pao è un detergente molto molto delicato sapete che è una pelle abbastanza delicata che si arrossa facilmente in alcuni periodi anche molto tendente al secco quindi bisogna di qualcosa che non sia troppo eccessivo mentre il detergente del libro sce era un po più sia corposo che più pesante più geloso rispetto a questo questo mi sono accorta che è più adatto il mio mio tipo di pelle mi lascia la pelle morbidissima compatta liscissima secondo me anche migliore rispetto all'altro in realtà questo costa anche meno perché l'altro costa 6,95 questo massimo intorno a 5 6 euro costa leggermente di più l'altro questo al marchio ecocert comunque all'interno ci sono il 99,5 per cento del totale degli ingredienti sono di origine naturale e 8,5 sono provenienti da agricoltura biologica quindi praticamente è un detergente che trovate non costa tantissimo lo trovate quindi al conad quindi in un supermercato delle performance positivissime mi piace mi sta piacendo tantissimo secondo me questo è molto più adatto il mio tipo di pelle rispetto a quello di brochet se non sbaglio ne ho uno o due ancora di brochet quando terminerò prenderò sempre questo perché mi sto trovando meglio l'utilizzo tutti i giorni comunque al mattino prima di truccarmi quindi per sciacquare il viso e alla sera dopo essermi struccata mi elimina l'ultimo residuo di trucco è molto delicato non dà fastidio sul viso dopo che lo passate non vi sentite la pelle stringere come a volte mi succede con alcuni detergenti quindi mi sta piacendo tantissimo e appunto è proprio non lo so proprio altato vi sentite proprio la pelle rinfrascata come se stesse respirando e quindi ve lo consiglio tantissimo e come vi ho detto poco fa il mio struccante occhi preferito è proprio quello della natural line e ultimamente invece sto utilizzando questo questo è dalla marca corin de farm questo l'ho trovato da saponi e profumi che è una catena di negozi che vendono prodotti per la casa prodotti per il beauty make up che c'è qui in sardegna ma sicuramente ve lo trovate anche da acqua e sapone questo è una comunque anche questo è bio va bene è per tutti i tipi di pelle uno struccante occhi fludo delicato con efficacia waterproof il 99 per cento degli ingredienti sono di origine naturali e poli eugenico e senza parabeni questo praticamente 125 m di prodotto ea 6 mesi di pao questo rispetto all'altro cui sono abituata mi piace ma lo consiglio soprattutto chi vuole chi utilizza molto spesso il trucco waterproof mentre perché l'altro cui sono abituata è più acquoso e secondo me un po più delicato rispetto a questo questo è molto più cremoso quindi se soffrite molto di pelle grassa non ve lo consiglio e lo consiglio soprattutto per chi lo utilizza solo come struccante occhi perché se vi va leggermente un po più giù secondo me vi ingrassa la pelle questo è più grasso rispetto all'altro perché appunto è denso come una crema alla fine però efficacissimo per i trucchi waterproof io non mi trucco quasi mai waterproof però quando è successo mi ha tolto tutto anche il mascara quello di maybelline ciglia sensazionali che comunque quello trovo difficoltà a struccarlo con questo è andato via subito quindi se voi utilizzate comunque dei trucchi waterproof ve lo consiglio perché comunque è comunque delicato anche se come vi ho detto l'altro di naturale secondo me è ancora più delicato sapete che io qui soffro proprio di screpolature e quindi secondo me l'altro è più delicato rispetto a questo però quando utilizzate dei prodotti waterproof l'altro non mi strucca mentre questo strucca completamente e quindi ve lo consiglio per i trucchi waterproof e poi soprattutto perché bianca questo costa intorno 3 euro quindi non costa tantissimo però tra i due preferisco l'altro però ve lo consiglio perché comunque è un buonissimo prezzo è la prima volta che provo questa marca fatemi sapere se avete preso qualcos'altro di questa marca ho preso anche la comicellare che non ho ancora provato quindi in generale ve lo consiglio se utilizzate appunto trucchi waterproof però tra i due è la mia preferenza per l'altro però comunque è un prodotto a tocco e sempre per lo struccaggio è sempre della marca di natural line sto provando questo questo è un latte detergente sapete che io per struccare il viso preferisco sempre le acque micellari cioè sempre prima utilizzavo molto i prodotti bifasici, i latte detergenti e ho fatto un po' di scorta di alcuni i latte detergenti dopo aver provato l'acqua micellare di Avril che mi piaciuta tantissimo e avevo provato quella di Garnier mi sono accorta che la mia pelle ha bisogno più di un'acqua micellare che non di un latte detergente perché anche se ho una pelle tenente al secco questi latte detergenti è più facile che mi vada via il trucco quindi per struccarmi sono anche più veloci però a volte non è che me li ingrassano però non mi piace al 100% come mi strucca e quindi sto cercando di terminarli però questo mi piace tantissimo tra tutti i latte detergenti che ho provato avevo provato anche tutti quelli praticamente di Brochet e questo mi piace molto di più è sempre al cetriolo guava quindi praticamente quasi tutti i prodotti di naturale sono al cetriolo all'interno ci sono 200 ml di prodotto e a 6 mesi di Pao anche questo va be bio al marchio EcoCert è un latte detergente meno pesante rispetto ad altri dati detergenti che ho provato è un latte detergente che vi strucca subito tutto il viso quindi anche per i trucchi waterproof per quei trucchi se fate trucchi pesanti magari se fate dei trucchi non lo so anche scenici secondo me questo va benissimo pur comunque essendo molto delicato e soprattutto tutti questi prodotti hanno un buonissimo perfumazione di questo cetriolo non lo so vi lascia comunque la pelle molto molto pulita considerate che io dopo metto il tonico a seconda dei latte detergenti in alcuni casi noto che ci siano ancora residui invece con questo praticamente mi strucca completamente non strucca le tinte a labbra quelle molto pesanti e quelle molto durature però per il viso va benissimo vi consiglio come dice qui di utilizzare poca quantità perché appunto se avete la pelle dentro il grasso ve lo grassa tantissimo essendo un latte detergente però è sempre delicato come gli altri prodotti di Naturaline quindi vi lo consiglio, non dà fastidio, non vi tira la pelle vi lascia la pelle comunque molto morbida, non vi appiccica quindi vi consiglio anche questo e un altro che appunto non posso non citarvi è questo qui questo ve ne ho parlato qualche volta è sempre della marca Naturaline sembra che sto sponsorizzando questa marca mi piace tantissimo di tutte le marche B che ho provato da supermercato questa probabilmente è la mia preferita perché comunque è una marca non lo so molto delicata che va benissimo per il mio tipo di pelle è una marca che comunque mi lascia la pelle molto pulita ho notato essere diminuiti tutte le imperfezioni io non soffro tantissime di imperfezioni pur avendone sofferto tantissimo quando ero adolescente adesso non soffro praticamente niente però da quando sto utilizzando il prodotto di bio soprattutto queste marche ho notato dei miglioramenti quindi questo ve lo consiglio questo è un tonico in cui all'interno ci sono 200 ml di prodotto e 6 mesi di pau un tonico molto molto acquoso di quei tonici delicati anche questo che non tira la pelle perché ho provato i tonici per esempio di Lush che mi piacciono tantissimo mi piacciono anche le profumazioni però noto che sono un po' più aggressivi rispetto a questo questo come tutti gli altri come vi ho detto è abbastanza delicato vi lascia questa profumazione molto non lo so fresca vi sentite la pelle molto pulita come se respiri e soprattutto appunto io l'utilizzo al mattino prima di truccarmi poi la sera dopo come un ultimo step di truccaggio al contrario di tantissimi altri tonici vi lascia la pelle un po' più cicaticcia ma dura 10 secondi con 10 secondi mentre altri tonici che ho provato bisogna aspettare qualche minuto quindi ve lo consiglio se hai a mettere una pelle molto pulita rinfrescata compatta questo ve lo consiglio anche perché comunque costa se non sbaglio 3,95 euro sono tutti comunque dei prodotti che costano abbastanza poco e per questo ve li consiglio perché potete avere delle performance abbastanza alte con prezzi bassissimi e l'ultimo prodotto di cui vi voglio parlare è questo qui questo è una lozione viso lenitiva con uccellaggine di Manola Bio Toscana della Bioficina Toscana all'interno ci sono 60.000 di prodotti a 12 mesi di Pau questo l'ho pagato 10,80 euro 10,90 euro non cose del genere mi piace tantissimo è il primo prodotto che provo di Bioficina Toscana e questo mi ha fatto pensare che devo provare neanche altri mi piace tantissimo io l'ho quasi terminato lo sto utilizzando forse da maggio giugno comunque l'ho utilizzato tutte le state fino adesso e lo utilizzo tutti i giorni è un come ve lo spiego una lozione leggermente giallina abbastanza oleosa ne bastano un paio di gocce le utilizzo tutti i mattini dopo che ho messo la crema metto questa lozione per rendere ancora la pelle un po' più morbida perché sapete appunto che soffro un po' di screpolature un po' di pelle arida invece con questo ho risolto d'estate addirittura quando c'era molto caldo non volevo niente sul viso non mettevo neanche la crema mettevo questa e questo mi ha aiutato tantissimo soprattutto qui al di sotto degli occhi come vi ho detto che sono leggermente screpolata sono migliorata tantissimo perché lì ne metto una quantità un po' più esigente rispetto al resto del viso e ho notato che ci sono stati tantissimi miglioramenti sì questa è leggermente più cara rispetto agli altri prodotti che vi ho mostrato però secondo me ne vale la pena e appena la terminerò sicuramente la riacquisterò perché ormai non riesco a farne cioè non riesco a starne starne senza l'ho portata anche in viaggio mi piace come prodotto comunque pur costando leggermente di più rispetto agli altri è un prodotto che comunque vi dà non lo so la sensazione di avere la pelle fresca abbastanza tonificata non lo so mi piace tantissimo l'effetto che ha e comunque ci sono vari effetti nel senso che c'è quello mi sembra se non sbaglio anti age comunque ce ne sono tre in totale e questo che ho preso io è quello lentivo proprio perché la pelle è abbastanza delicata che si rossa facilmente e questo è quello migliore per il mio tipo di pelle io consiglio che la pelle è leggermente più grossa di provarne altri però questo mi è piaciuto subito inizialmente ho sbagliato le quantità ne mettevo un po' troppo quindi ci mettevo un po' ad asciugare perché essendo oleoso bisogna aspettare almeno 30 secondi prima che asciughi e quindi io magari lo metto sul viso mentre preparo la colazione e poi mi trucco mi piace tantissimo comunque se siete delle persone che magari non vogliono prodotti troppo oleosi non ve lo consiglio però per chi ha la pelle del mio tipo lo consiglio tantissimo perché l'ha migliorata tantissimo e soprattutto non lo so in alcuni casi ha sostituito anche la crema quando non voglio qualcosa di molto pesante non voglio mettere la crema magari la metto solo alla sera al mattino non la metto adesso succede rare volte praticamente mai perché comunque l'inverno ho l'esigenza e l'autunno della crema però d'estate per esempio non utilizzavo la crema utilizzavo solo questo e non avevo la pelle per niente secca e niente fatemi sapere voi cosa pensate di questi prodotti ma soprattutto di questi se li avete mai provati come vi trovate se avete mai provato anche altri tipi di questi biofficina toscana cioè di queste lozioni se avete provato altri prodotti che mi volete consigliare fatemi sapere quali sono i vostri prodotti top del periodo bio se è piaciuto il video mettete in piace e a presto ciao ciao